Per quanto riguarda la collocazione di servizio straordinario del procedimento di oggi è dovuto soprattutto alla nota smessa dal Ministro delle Comunità e Finanze dove bisogna ratificare all'interno del regolamento IETF Comunale del 2013 del Comune di Orsimo l'esibizione per i venditi fino ai 10.000 euro. Noi avevamo proposto che fossero esenti dall'addizionale comunale del 0,80% e questo andava ratificato nel regolamento, purtroppo è sfuggito e quindi il Ministero ci ha stretto a 15 giorni per il ricevimento della presente nota e modificare il regolamento comunale in materia adizionale Pugnale IETF, ovvero di inserire questa nota, visto che noi ci teniamo questa cosa anche per dare un po' più di ossigeno al cibo, per dare veramente poco all'anno, ovviamente abbiamo detenuto necessario e dover uso per questa integrazione. La proposta è quella di approvare all'interno del regolamento questa nota. Vi sono osservazioni? Favorevoli? Siete. Immediate. Immediate seguità. Non serve al senso di colore che sulla carta che pronuncia il conto giurta anche scrive modificare volamente o esenzione fino a 10.000 euro. Giustizia che è in realtà una fortuna che aumenta la posizione. Immediate seguitità. Favorevoli? Siete. Ok. E' possibile finire.